Sì, certamente è un periodo dove stiamo facendo un po' fatica, bisogna continuare a lavorare, bisogna tenere la testa fredda e in questi momenti di difficoltà tirare fuori quello che serve, non abbassare la testa, tirare fuori gli attributi, far vedere in campo che comunque pur giocando così vogliamo vincere, oggi purtroppo nel terzo o quarto set non l'abbiamo dimostrato, per niente, quindi bisogna lavorare e puntare a quello, a non molare. No, allora abbiamo fatto un grandissimo primo set dove abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali e loro hanno fatto un cambio, hanno cambiato un giocatore, hanno iniziato a forzare un po' più la battuta e noi siamo calati e sicuramente non ci è entrata più la battuta come nel primo set e in tutto sommato abbiamo fatto fatica praticamente lì. Sì, questa è la Superlega, dobbiamo essere pronti a giocare questo programma, ci siamo guadagnati il passaggio alla Coppa Italia, quindi bisogna giocare contro Macerata e poi subito in campo loro e poi martedì giochiamo subito la Coppa Challenge, quindi è questo che dobbiamo fare, per questo siamo qua, per giocare, quindi bisogna che nella testa del rientro di Oleg, continuare a lavorare e poter riuscire a uscire da questa situazione.